Preziose per natura, Flash Mob di Lega Ambiente, Pantane di Lentini e Gelsari diventino riserva naturale. Nell'ambito della campagna Preziose per Natura, Flash Mob ieri mattina di Lega Ambiente Sicilia per chiedere che Pantane, Gelsari e Lentini diventino una riserva naturale. Insieme ai volontari dei circoli di Catania, Melilli, Augusta e Enna, ieri mattina dice Zanfranco Zanna, Presidente di Lega Ambiente Sicilia, abbiamo ascolto il nostro striscione per richiamare l'attenzione sui Pantane, Gelsari e Lentini e chiediamo che l'aria diventi riserva naturale. I Pantane, aggiunge, sono scrigne di biodiversità, forse tra i più importanti e preziosi. Non sono luoghi dove costruire case, strade e aree industriali, si tratta di zone umide dove è assolutamente normale che a seguito di piogge abbondanti si verifichino allagamenti. Dobbiamo difendere questa naturalità dei Pantane che non possono e non devono essere svuotati con inutile e dannosissime idrofore. Le zone umide contribuiscono a fermare i cambiamenti climatici assorbendo anidride carboniche e mantengono riserve idriche contrastando la desertificazione. Abbiamo il dovere di proteggere l'ambiente che li caratterizza, rispettare ogni forma di vita che li popola.